Come ogni multifunzione, l'interfaccia Android, come abbiamo detto, richiama quella che è l'esperienza di utilizzo sui smartphone e sui tablet e lo vediamo già dalle icone che richiamano molto quelle che troviamo sui dispositivi smartphone e tablet, ma allo stesso tempo la particolarità di queste multifunzioni è anche la connettività, la possibilità di utilizzarli con smartphone e tablet, ma allo stesso tempo utilizzarli senza PC. Abbiamo la possibilità addirittura di navigare dal multifunzione, navigare per esempio all'interno delle pagine web, io posso inserire direttamente indirizzi web e automaticamente il mio multifunzione mi manda sulla pagina web che io sto cercando e da questo punto, oltre alla consultazione, io posso addirittura anche stampare. Quindi la pagina web che io sto visualizzando la manderò direttamente in stampa, possiamo pensarla in pagina web, ma possiamo pensare anche la stampa di mappe, andare su Google Map, trovare un'indicazione stradale di cui necessito e allo stesso tempo mandarla direttamente in stampa. Una particolarità di queste multifunzioni è anche quella di far vedere un'anteprima, quindi io vedrò l'anteprima della pagina web, mi interessa magari soltanto questa parte della pagina web, quindi deselezionerò le pagine a cui non sono interessato e stamperò quindi un unico foglio, perché i vantaggi di queste multifunzioni destinati a un mercato business è anche quella un'attenzione al contenimento dei costi, contenimento dei costi che abbiamo anche dai materiali di consumo che utilizzano questi prodotti, materiali di consumo ad alta durata con tecnologie innovative che permettono di avere prodotti qualità di stampe molto ma molto elevate. Un vantaggio ci è reso possibile per esempio dai toneri a polimeri che compongono i nostri materiali di consumo. I toneri a polimeri sono partitelle più sferiche ed essendo sferiche causano meno attrito e quindi consumerà di meno il nostro multifunzioni. Abbiamo visto in pochi secondi, abbiamo stampato la pagina web che abbiamo visualizzato direttamente sul nostro display con l'interfaccia Android che potrà distinguere queste nuove multifunzioni.